10 piccoli indiani di Agatha Christie è un thriller psicologico straordinario che tiene i lettori col fiato sospeso dalla prima all'ultima pagina. Questo classico del giallo è una vera e propria opera d'arte nel genere, scritto con maestria dalla regina del crimine. Dieci persone, tutte estrane e l'una all'altra, si ritrovano su un'isola remota, invitati da un misterioso ospite sconosciuto. Ben presto, scoprono di essere accusati di omicidi commessi in passato e si rendono conto che sono intrappolati sull'isola, senza possibilità di fuga. Uno dopo l'altro, i personaggi iniziano a morire in circostanze apparentemente casuali, seguendo una sinistra filastrocca che decima il gruppo uno per uno. La tensione cresce costantemente mentre i personaggi cercano disperatamente di scoprire chi sia il colpevole tra di loro, sospettandosi a vicenda e scrutando ogni mossa. Agatha Christie mescola abilmente intrighi, sospetti e colpi di scena in questa trama intricata, tenendo il lettore incollato alla pagina fino alla sorprendente e inaspettata conclusione. Dieci piccoli indiani, è un romanzo che sfida l'intelletto e il senso di giustizia del lettore, creando un'atmosfera claustrofobica di paranoia e sospetto. Con personaggi complessi e un'ambientazione isolata, Agatha Christie ci regala una delle sue opere più indimenticabili. Questo libro è un must per gli amanti del giallo e del mistero, un'esperienza di lettura vincente e coinvolgente che vi terrà svegli tutta la notte, cercando di risolvere il mistero insieme ai protagonisti.